È una sinfonia di tubi liquidi e bolle, ma non serve che glielo dica. Lei è un'esperta. Sì, sì, ma continui pure. Insomma, io so come funziona, ovviamente, ma forse molti di loro hanno bisogno di un pro memoria. Questa è... Guardate che posto! È magico! Come funziona? Diglielo, Ellen. Prendi il bucato dal cesto, sbatti un po' e lo butti dentro. Troppo sapone, premi state, il ciclo inizia in un momento. Poi tiri tutto fuori e vai al coso che asciuga. È un acceggio enorme e non lascia una piega. E poi fate arrivare tutto qua, giù dei piani alti in profondità. Le persone a faccia è andate perché tutto sia perfetto. Asciuga mani su, asciuga mani, in torri alto e fino al tetto. La lavanderia, le macchie tutte tira. Il bucato noi mandiamo, più del doppio ce ne torna giù. Lenzuola asciugata è pronta ad essere sdirata. Avvincente. Filano in un coso e sotto un rullo son passate. Divertente. Ed escono dal lato opposto, ora le puoi piegare. Andiamo a bere qualcosa in bar. È un posto spettacolare. Adoro veder scendere il bucato giù, dai piani alti verso il basso sempre più. E tutte le persone intente a far girare la ruota. Asciuga mani su, asciuga mani. Oh, e quella cos'è? Qui contro le macchie c'è una stazione per smacchiare. Dalle lenzuole, fonte ogni residuo epiteliale. Via il ketchup dai cuscini e il rossetto dalle tende. Struscia, 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 finché non resta niente contro le macchie. C'è una stazione per smacchiare. Dalle lenzuole, fonte ogni residuo epiteliale. E va bene, ketchup dai cuscini e il rossetto dalle tende. Struscia, 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 finché non resta niente. Oh, adoro questo posto. È proprio strano quell'uomo. La lavanderia, le macchie tutte tirati. Il bucato noi manchiamo. Chiudo il doppio, ce ne torna giù.